Ciao insegnanti e studenti! Sapete chi era Antonio Raimondi? Dove è nato? Quando è arrivato in Perù? Perché ha deciso di viaggiare nel nostro paese? E quali sono state le sue scoperte principali? Scopriamo un insieme con la fantastica storia Il Perù di Antonio Raimondi. Ciao amici, mi chiamo Antonio Raimondi. Sono nato in Italia, a Milano, il 19 settembre del 1824. I miei genitori si chiamavano Enrico e Rebecca e ho vissuto in una piccola casa con i miei quattro fratellini. Mi piaceva andare al parco per osservare il volo degli uccelli che svolazzavano intorno a me. Questa esperienza mi ha insegnato ad amare la natura. Ricordo che in campagna osservavo il movimento degli insetti, i bei colori dei fiori o il colore intenso dei minerali. A scuola mi piaceva leggere libri dei grandi viaggiatori. Volevo essere un grande esploratore della natura. Nel giardino botanico di Milano ho imparato i segreti della natura e lì ho visto con tristezza tagliare un cactus peruviano. Il mio interesse per il Perù è diventato sempre più forte, finché, un giorno, ho preso una nave diretta al porto del Cagliau, dove sono arrivato il 28 luglio del 1850. Dal mio arrivo ho sentito un grande desiderio di viaggiare e conoscere tutto il Perù. A cavallo, in barca o a piedi, ho viaggiato per 19 anni nel vostro meraviglioso paese, accompagnato dal mio assistente e amico Cristoforo. In questi viaggi di esplorazione e di scoperte scientifiche ho vissuto i giorni più felici della mia vita. Il regno vegetale fu uno dei miei preferiti. Ogni volta che trovavo un fiore lo disegnavo, lo tagliavo e lo conservavo per seccarlo. Così sono riuscito a raccogliere circa 20.000 esemplari. Nel 1867 ho scoperto ad Ancash la specie più bella del Perù, la puya. La varietà di animali che abitano nelle diverse regioni naturali del Perù è impressionante. Il mare, la costa, la sierra e le montagne ospitano leoni marini, balene, uccelli, orsi, il puma, la vigogna, l'alpaca, i boa, le scimmie e tante altre bellissime specie. Attraverso i miei viaggi ho raccolto una gran quantità di rocce, minerali e fossili. Mi affascinavano la loro lucentezza, le strane forme, i diversi colori e gli antichi fossili degli animali. La Cordigliera delle Ande è stata la fonte delle mie collezioni. I resti preispanici abbondavano in tutto il paese, come il misterioso tempio di Chavin, ad Ancash, e le sue oscure gallerie, dove trovai una lancia monolitica. Ho scoperto anche una stele, con l'immagine di una divinità soprannaturale, che ora rappresenta un simbolo nazionale del Perù. Durante i miei viaggi ho sempre avuto difficoltà ad attraversare gli impetuosi fiumi. Per questo motivo, gli incas costruirono ponti sospesi, tessuti a mano con fibre vegetali. Io stesso ho attraversato il famoso Qesuachaca. Ricordo che cercavo di restare in equilibrio, mentre l'acqua del fiume Apurimac scorreva sotto i miei piedi. Dopo tanti sforzi mi sono riposato all'ombra di un bellissimo pisonai. Quando sono arrivato a Cusco, mi è sembrato di essere a Roma. Ad ogni passo, in ogni angolo, potevo riconoscere le costruzioni degli incas, che, come quelle romane, ci ricordano la grandezza del passato. Ho visitato le imponenti rovine di Sacsayhuaman e ho disegnato la famosa pietra dei dodici angoli della strada Atun-Rumichok. E finalmente sono arrivato alla bellissima città di Arequipa. Dal belvedere di Yanawara ho potuto osservare i suggestivi vulcani misti, ciacciani e picciu-picciu, incorniciati dal loro mantello bianco di neve. In questa città le case sono fatte di pietra abbugnata, che viene da una cava vicina. Il suo colore bianco dà un tocco speciale a questa città. Arequipa è una bella dimora per il viaggiatore. I miei viaggi e tutte le scoperte sono descritti nella mia più importante opera, intitolata Il Peru. Questo libro è dedicato ai bambini peruviani per farli avvicinare con amore e passione allo studio della natura del nostro bel paese. La maggior ricchezza del Peru è la nostra gente, mescolanza di persone provenienti da tutte le parti del mondo. Tutti quanti, con le loro abitudini, religioni e tradizioni, arricchiscono la nostra cultura e la nostra storia, facendo di questo paese una bella nazione, piena di diversità. Tutta la mia vita la dedicai allo studio della natura del Peru. Il cammino per amare e rispettare il nostro paese è conoscerlo. La sua natura custodisce i segreti del nostro progresso come nazione. Il mio messaggio alle future generazioni è di continuare il mio modesto sforzo per fare del Peru un paese prospero e degno. Il Museo Raimondi invita gli insegnanti a scaricare il modulo in cui troverete attività e contenuti didattici relativi a ciascuno degli episodi della storia. Inoltre vi invitiamo ad accedere alle versioni spagnolo e quechua disponibili sulle nostre reti sociali. Cercaci come Museo Raimondi!